abbiamo visto che se cerchiamo con forza di cambiarci questo impedisce l'esperienza del nostro centro di fare l'esperienza della nostra vera natura e tutta questa attività interiore che abbiamo analizzato anche nei video precedenti le difese, il pensiero ossessivo sono tutte interferenze che ci impediscono di essere ciò che realmente siamo un'altra interferenza è la proiezione nel futuro l'aspettarci un'illuminazione che chissà in che momento dovrà avvenire e chissà cosa dovremo fare quando la realtà è che noi siamo noi stessi qui ed ora nel presente quindi in realtà non dobbiamo andare da nessuna parte non è che dobbiamo muoverci in realtà perché la realizzazione di noi stessi non dipende da una causa non dipende da uno sforzo e quando vogliamo, desideriamo l'illuminazione non è che stiamo desiderando qualcosa di diverso da altro tipo di desiderio perché il problema non è il contenuto del desiderio il problema è il desiderio quel che dobbiamo fare è aprirci a noi stessi qui ed ora in realtà è qualcosa di molto semplice è la mente che complica tutto l'attività interiore che dovrebbe essere naturale, spontanea la manifestazione, la penetrazione o meglio nel centro è ostacolata da molte forme di resistenza dall'interferenza che facciamo dal fatto che vogliamo sempre controllare che ci mettiamo sempre in atteggiamento di difesa ma in realtà anche questa differenza tra esterno ed interno non esiste perché ogni volta che siamo impegnati in attività esteriori in realtà siamo anche impegnati in attività interna e contemporanea noi siamo in continua attività anche quando siamo semplicemente seduti e ci stiamo rilassando a occhi chiusi ma lo stesso anche sogno è un'attività nostra sempre che facciamo anche mentre dormiamo questo attivismo interno in realtà è legato però al nostro ego è la compulsione della nostra mente e allora bisogna fare un passo avanti nel nostro cammino verso la presenza mentale e renderci sempre più conto di altre dinamiche che attuiamo e che impediscono di essere consapevoli del qui ed ora e quindi di essere consapevoli del centro come vi dicevo la cosa importante è la penetrazione nel presente il presente non è da nessuna parte il presente è qui quindi quando io dico inutile pensare che per essere noi stessi dobbiamo fare chissà che cosa è la stessa cosa come se dicessi è inutile pensare che per essere nel presente dobbiamo andare chissà dove perché il presente è qui il presente è qui ed ora allora è inutile ad esempio se vogliamo penetrare nel presente che è la stessa cosa penetrare nel me stesso penetrare nel presente è la stessa cosa in realtà allora per penetrare nel presente è inutile cercare di andare da qualche parte di fare degli sforzi di lottare con i nostri sentimenti con i nostri pensieri di mettere in atto tutto questo processo della mente che rumina 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 febbrilmente tutto questo è assurdo perché il presente è qui e ora in realtà non possiamo muoverci dal presente così non possiamo scappare da noi stessi dobbiamo semplicemente prendere consapevolezza di ciò che siamo nel presente l'attività e il luogo invece è ossessiva ossessiva e se la osserviamo vediamo questa compulsione in realtà ha un qualcosa che li alimenta sapete cos'è questo qualcosa che alimenta la compulsione dei pensieri e anche tutte queste dinamiche di meccanismi di difesa resistenza e così è l'odio vi sembrerà strano adesso questo ma è l'odio in realtà è una sorta di violenza che noi abbiamo verso noi stessi e che è non è altra che la conseguenza dell'ascolto del pensiero compulsivo dell'identificazione innanzitutto con l'ego e con il pensiero compulsivo che non altro che è un prodotto dell'ego senza renderci conto allora viviamo continuamente in un'attività super egoica agganciata sempre al nostro ego e questa attività in realtà è un'attività legata alla violenza all'odio da cosa ci possiamo accorgere che è legata a una forma di violenza che ci fa soffrire in realtà la sofferenza che proviamo la sofferenza che si prova quando ci si aggrappa al desiderio quando ci si aggrappa si vuole evitare la sofferenza e si soffre ancora di più quando si cerca di aggrapparsi al piacere non ci si riesce tutto questo genera altra sofferenza e questa sofferenza divide frammenta e come abbiamo visto più andiamo verso il centro più siamo uno e percepiamo compassione più ci allontaniamo dal centro andiamo verso la circonferenza più ci frammentiamo e più soffriamo e più scatta questo meccanismo di violenza che frammentano noi stessi e ci impedisce di vedere la realtà così com'è più osserviamo questa violenza e più ci rendiamo conto che questa non finirà mai finché non cominciamo a voler vedere le cose come stanno questa violenza quest'odio è offuscata in realtà tant'è vero che molte persone davanti all'affermazione guarda che tu in realtà odi te stesso restano un po' sconcertati eppure questa violenza quest'odio è il propellente la forza motrice dell'ego perché l'ego è quello che è quella costruzione illusoria che ci impedisce di essere noi stessi e questa è la violenza suprema come possiamo rifiutare noi stessi come possiamo allontanarci da noi stessi come possiamo allontanarci dal presente perché questa è l'assurdità cerchiamo di scappare dal presente ma non si può far questo cerchiamo di scappare da noi stessi ma non si può far questo e allora bisogna comprendere noi stessi cominciare a comprendere tutte queste dinamiche di immagini interiori che sono non sono altro che diaframmi che ci impediscono di essere noi stessi e poi dobbiamo cominciare ad affrontare quello che Jung chiama la nostra ombra gli aspetti di noi stessi che non vogliamo conoscere il processo di individuazione che è sinonimo di processo di cui parla Jung che può essere sinonimo di processo di conoscenza inizia proprio con la presa d'atto la presa di consapevolezza dell'ombra ossia il riconoscere tutte le parti di noi che tendiamo a rifiutare e a non voler vedere e questi sono i primi passi i primi passi per una reale conoscenza di noi stessi ecco questa grande aggressività che dicevo ci frammenta questo odio perché è vero e proprio odio come si fa adesso a risolvere il problema dell'odio come si fa a uscire da questa frammentazione provocata da questa sorta di costante autolesionismo in realtà il segreto è molto semplice si fa legandoci al presente essendo consapevoli del momento presente e come si fa ad essere consapevoli del momento presente bisogna osservare senza giudicare qualsiasi cosa accada osservare senza giudicare l'odio nasce da una nostra valutazione questo è bene e questo è male ricordate il superio anche i dettami del superio che divide la realtà in due scinde questo è bene e questo è male se fai il bene sei bravo se fai il male che ti venga un bel senso di colpa e sei un cattivo questa è la logica del superio e anche il superio è mossa da questa logica di odio perché tutto quello che tende a frammentarci a dividerci è mosso da una affermazione della dualità che non è altro che violenza perché la realtà è una e quindi andare contro l'uno è violenza dietro questa attività violenza di odio c'è la volontà di cambiare ciò che siamo e per ristabilire l'ordine dobbiamo semplicemente aprirci ad accettare ciò che siamo perché tutta questa frammentazione nasce sempre dalla manipolazione della realtà che intende fare la mente quindi mi piace questa cosa quest'altra cosa non mi piace allora questa l'accetto e quest'altra l'eligno e è l'odio che alimenta questa frammentazione perché più ci allontaniamo dal centro dunque più seguiamo questo tipo di pensieri che frammentano più ci allontaniamo dalla compassione e ci muoviamo verso il suo opposto e questa è una sorta di strategia di distruzione e quando pratichiamo attraverso la pratica della meditazione e anche la pratica dell'attenzione vigile della presenza mentale un po' alla volta cominciamo a riconoscere questi ostacoli ostacoli della realizzazione spirituale che hanno un nome si chiama ego che l'ego non è altro che l'insieme delle nostre contrazioni delle nostre resistenze dei nostri conflitti e l'odio paradossalmente questa forma di violenza è un tentativo di distruggere l'io perché a un certo punto quando ci si comincia a rendere conto di questo meccanismo si continuano per attuare le vecchie strategie che sono la divisione la separazione il tentativo di annulare e manipolare e dunque ecco che questa violenza insida in questo processo questo odio insida in questo processo si manifesta come tentativo di distruggere l'io a riguardo a questo punto perché continuando con questo tipo di logica il problema è l'io allora voglio distruggere l'io e così sarò illuminato così favorirò la realtà spirituale e in effetti molti maestri hanno detto che per arrivare alla realizzazione bisogna annullare l'io ci hanno parlato di morte egoica però qui c'è il grande inganno una grande confusione perché che cosa vuol dire morte dell'ego questo è un po' come nella meditazione che cosa vuol dire vacuità ogni tanto metto la frase di un saggio cinese che si chiama l'inci e che dice la mente è vuota quando non c'è identificazione col pensiero non ci sta parlando di mente vuota come assenza di pensiero ma come non identificazione con il pensiero attenzione perché questo è l'essenza di tanti equivoci che ci sono e di tante incomprensioni dal punto di vista concettuale per cui annullare l'ego morte dell'ego viene interpretato come distruggere l'io come una sorta di distruzione del nemico per arrivare a una fantomatica illuminazione a una liberazione finale finale ma se andiamo a analizzare in fondo questo fatto osserveremo che è sempre una tendenza egoica che muove tutta questa dinamica perché il problema non sono i contenuti bisogna andare alle radici come il pensiero il problema quando meditiamo il problema non è il contenuto del pensiero che il contenuto nella tua coscienza in quel momento ci sia un'orgia di cicciolina o ci sia madre Teresa di Calcutta che aiuta le brosi non è un problema dei contenuti l'osservatore osserva l'uno e l'altro pensiero in maniera totalmente distaccata senza valutazione e così l'ego anche in questo caso quando legge le parole dei maestri morte dell'ego annullamento dell'ego dice ah allora adesso ecco il nuovo desiderio che sorge è la nuova valutazione allora adesso devo uccidere l'ego in tal modo starò meglio e queste sono sono dinamiche che continuano a perpetuarsi guardate che è molto molto abile se noi immaginiamo la mente come una persona è molto abile veramente la mente il problema è l'ego e l'ego qual è il vero problema? che non esiste che non esiste per comprendere come funziona l'ego bisogna capire come si crea tutta questa dinamica questa grande illusione si comincia dalla nostra storia personale da quando eravamo piccoli e dalla frustrazione che tutti i bambini sperimentano nel vivere in un mondo che capiscono solo in parte e questo sono i primi passi nella costruzione dell'ego la frustrazione che si sviluppa con l'interazione con l'ambiente quando siamo piccoli un secondo passo è la mancanza di comprensione la mancanza di comprensione significa il non conoscere noi stessi quando si parla di ignoranza quando i maestri parlano di ignoranza non si riferiscono all'ignoranza concettuale all'analfabetismo per capirci o questo tipo di ignoranza si riferiscono al non conoscere la nostra vera natura questa è la vera ignoranza ed è per questo che Socrate diceva so di non sapere l'adotta ignoranza sapere di non sapere e queste strategie così si forma l'ego comincia a formarsi l'ego da piccolissimi e cominciano tutte le attività egoiche tutte quelle strategie che ci impediscono di essere noi stessi allora sta a noi cominciare a riconoscere queste strategie queste strategie separatrici dell'ego che ci rendono insensibili alla vera realtà ossia all'essere perché la caratteristica dell'ego è il fare la caratteristica del centro è l'essere io sono e piano piano dobbiamo riconoscere il nostro essere riconoscere gli impedimenti che ci fanno costruire questi diaframmi che impediscono la penetrazione nel presente e l'accettazione totale del presente e attenzione perché in realtà la chiave di tutto è una parola che abbiamo già nominato in questa playlist consapevolezza la consapevolezza è pura presenza nel presente e basta questa presenza per dissolvere ogni agitazione allora in realtà non dobbiamo andare da nessuna parte non dobbiamo fare nulla per distruggere il nostro ego dobbiamo favorire il processo della consapevolezza e la consapevolezza non deve fare alcunché la semplice manifestazione della consapevolezza automaticamente elimina tutti i conflitti è come accendere un interruttore della luce cioè accendi la luce e adesso che devo fare per illuminare il buio? no è un'assurdità hai acceso la luce basta il buio non c'è più lo stesso atto dell'accendere la luce ha eliminato il buio e la mente invece è assurda la mente funziona con questi schemi incredibili accende la luce e dice adesso che devo fare per illuminare il buio e non si rende conto che è già eliminato il buio continua a funzionare con schemi robotizzanti con condizionamenti per cui non sta mai nel presente allora una volta che è acceso la luce eccolo lì il buio non c'è più la mente dice adesso che devo fare guarda il presente e renditi conto che c'è la luce non devi fare altro lascia accadere la consapevolezza non devi fare altro la tua vera natura si manifesterà ecco il segreto della inazione il segreto del non agire il non agire questo qui l'odio annulla l'odio è legato all'ego dunque è legato alla mente compulsiva che si muove nel tempo e crea il tempo e creando il tempo deve sempre fare qualcosa questa è la natura della mente la natura del centro è l'osservazione degli eventi che accadono l'osservazione la semplice osservazione senza valutazione favorisce l'accadere della consapevolezza esattamente come la tecnica della meditazione favorisce l'accadere della meditazione arrivato a quel punto ci apriamo e quando la consapevolezza accade siamo nel centro non dobbiamo fare assolutamente nulla quindi non bisogna combattere il combattimento è sempre alimentato da questa attività violenza questo odio di fondo che rifiuta il presente e non è altro che un odio nei confronti di noi stessi e allora che bisogna fare con l'odio mi sembrerà strano bisogna osservare l'odio non bisogna stare lì a rifiutarlo anche lo stesso odio che è la dinamica propulsiva di tutto questo meccanismo ma a sua volta ha osservato è l'unico modo per non identificarsi se non ti identifichi con l'odio non ci saranno togli la benzina a questo meccanismo togli il propellente e allora anche l'odio va sentito nel presente entrare in contatto con l'energia dell'odio è sgradevole e prendi atto che c'è una sensazione di sgradevolezza senza valutarla senza giudicare senza dire questo è bene e questo è male senza volerla eliminare e questa è la chiave per la penetrazione del presente per entrare realmente nella pace del nostro sé ecco l'importanza dell'uscire dall'ignoranza per uscire dall'ignoranza non dobbiamo leggere 6.000 libri dobbiamo meditare e dobbiamo fare la pratica della presenza mentale per uscire dall'ignoranza dobbiamo innanzitutto essere coscienti della nostra ignoranza questo è il punto so di non sapere dice Socrate è come nella caverna di Platone tutti quelli che sono lì incatenati qual è il loro problema? è che scambiano le ombre per la realtà e se uno schiavo non si rende conto di essere schiavo perché dovrebbe desiderare la liberazione una persona uno schiavo che non si rende conto di essere schiavo perché dovrebbe desiderare la liberazione allora è questo il meccanismo riconoscere questi meccanismi e riconoscere l'ignoranza comprendere anche cosa è questa ignoranza perché c'è un'ignoranza appresa e un'ignoranza accumulata c'è un'ignoranza appresa che è quella che ci insegnano quando nasciamo va bene tutta la nostra istruzione l'educazione in realtà rispetto alla conoscenza di noi stessi è ignoranza appresa sono tutta una serie di dinamiche che ci allontanano da noi stessi tant'è vero che questa ignoranza appresa che tra l'altro nei primi anni nei primi cinque anni forma il superiore si radica si cristallizza nel superiore e condiziona la vita delle persone fino alla loro morte se questi non meditano e se non escono dalla caverna tutta questa ignoranza appresa è la radice della gran parte dell'attività interna delle nostre dinamiche inconsce di queste immagini che fluiscono dell'attività mentale è questa ignoranza appresa è una conoscenza è una sorta di cibo precotto questa ignoranza appresa avviene per schemi che ci inculcano è come una sorta di programma che ci inseriscono nel cervello e continua automaticamente poi a funzionare no? questa è l'ignoranza appresa c'è poi l'ignoranza innata che è un secondo livello di ignoranza ma in realtà è il livello fondamentale dell'ignoranza perché se non ci fosse questa ignoranza innata non potrebbe attecchire l'ignoranza appresa l'ignoranza innata è la mancanza di conoscenza di noi stessi mentre l'ignoranza appresa su tutte le nozioni che ci danno e che vanno a organizzare a strutturare l'ego e dunque anche gli elementi compulsivi della mente l'ignoranza innata significa non sapere chi si è se noi intervistassimo una rondine non so se ho già fatto questo esempio dunque se noi intervistassimo potessimo intervistare una rondine e lei potesse capire la nostra lingua e gli dicessimo scusa ma tu stai facendo del bene o del male a prendere dei vermi a portarli a cibare i figli con questi vermi lei non capirebbe perché la rondine è in totale contatto con la natura e dunque non fa valutazioni di bene o di male tutti gli animali agiscono in realtà totalmente immersi nella natura non fanno né bene né male non possono essere né buoni né cattivi quelle sono nostre valutazioni del comportamento animale ma l'animale è ciò che è che fa quello che la natura gli dice di fare così tutto un albero di pere fare pere non troverete mai un albero di pere che a un certo punto produce mele perché ognuno segue le sue potenzialità gli animali sono la loro vera natura però qual è la differenza degli uomini gli animali non lo sanno mentre gli uomini hanno coscienza di se stessi perché gli animali non si suicidano perché non hanno questo tipo di conoscenza di se stessi rispetto alla propria individualità gli uomini ce l'hanno e allora gli animali vivono secondo la loro condizione inseriti nella natura ma a un basso livello di coscienza ovviamente rispetto all'uomo l'uomo invece deve comprendere queste dinamiche in particolare che l'ignoranza appresa si fonda sull'ignoranza innata e senza questa ignoranza innata questo non comprendere che siamo noi stessi l'ignoranza appresa non non formerebbe poi tutte le dinamiche dell'ego e così via se stessimo sin dall'inizio chi siamo non avremo bisogno di sviluppare un senso dell'io perché è quel senso dell'io che ci permette di conoscere la nostra identità tante volte ho fatto il paragone con Adamo ed Eva il paradiso terrestre mangiano il frutto del bene e del male ecco la nascita dell'io prendono coscienza di se stessi c'è scritto e si resero conto di essere muti quindi coscienza di se stessi e entrata nel mondo dell'attualità poi c'è tutto il percorso che si conclude con la Gerusalemme celeste tutto il percorso della Bibbia e del Vangelo il recupero della Gerusalemme celeste tornare in paradiso perfettamente consapevoli però avendo superato il 2 allora potremmo dire che Adamo ed Eva le origini vivono nel paradiso terrestre come una sorta come vivono gli animali sulla terra quando tornano nel paradiso terrestre nella Gerusalemme celeste hanno perfettamente coscienza di se stessi hanno fatto un percorso ed è quello che noi facciamo per quello bisogna avere un io ben strutturato per poter scardinare l'io poi attraverso la meditazione è l'attuazione di questo mito e allora se sapessimo sin dall'inizio che cosa siamo chi siamo non ci sarebbe bisogno di conoscere la nostra identità e dobbiamo passare necessariamente per questo processo un essere umano un animale se la cava se si trova da solo un essere umano ha bisogno del papà della mamma di essere educato e dunque ha bisogno di passare per questa ignoranza appresa questa ignoranza appresa si innesta sull'ignoranza innata perché non si sa chi siamo realmente quando nasciamo e piano piano tutto il percorso della meditazione non è altro che il percorso per ritornare alle origini per ritornare a penetrare ciò che realmente siamo questo è il percorso reale della nostra meditazione sia della pratica della meditazione che della pratica della presenza mentale la progressiva comprensione di chi siamo realmente il comprendere cosa è realmente il centro e cos'è realmente la nostra vera natura ma questo sarà il tema del prossimo video per il momento è tutto